Un saluto a tutti i videascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Vita e Pensiero dal titolo L'universalità del papato medievale, secoli VI-XIII, a cura di Sabrina Blanca e Caterina Cappuccio che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite, alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola per non rubarle il tempo prezioso. Prego Caterina, a lei. Grazie, grazie mille per questo invito, per la possibilità di presentare i risultati di questo volume miscellaneo che è uscito, è stato pubblicato qualche settimana fa proprio per Vita e Pensiero nella collana Ordines Studi su istituzioni e società nel medioevo europeo, curato da Maria Pialberzoni. Il volume raccoglie i contributi presentati in occasione di un convegno internazionale a Wuppertal, alla Berghese Universität Wuppertal, nel settembre 2019. Si trattò allora di un convegno, eravamo ancora appunto prima della pandemia, in presenza, che raccolse giovani studiosi e studiosi, ma anche professori e professoresse che entrarono proprio in dialogo, entrammo molto in dialogo sugli aspetti dell'universalità del papato, tanto che il titolo iniziale del convegno era la seconda proposizione del Dictatus Pappe di Gregorio VII, che afferma che solo il romano pontefice può di diritto essere chiamato universale, quod solus romanus pontifex iure dicator universalis. Il convegno fu finanziato dalla Berghese Universität Wuppertal e in particolare dal Paul Maria Baumgarten Institute for Pabstum Forschung, un centro di ricerca della storia del papato particolarmente attivo in università, e anche dalla Cusanus Werkstiftung. Dopo la rielaborazione dei contributi, siamo quindi riusciti a elaborare questo volume che presenta appunto i contributi in una versione più ampia, rivista e corretta, con la più aggiornata storiografia. Il volume si divide in tre parti e la prima parte si occupa della ricezione anche a livello soprattutto della canonistica e della riflessione teologica sull'universalità del papato e ne fanno parte i contributi di Sabrina Blanc, Marco Cristini e Marco Sirtoli e coprono soprattutto i secoli alto e pieno medievali. Una seconda consistente parte del volume si occupa invece della ricezione in una prospettiva più prettamente curiale, quindi della curia romana e del territorio attorno a Roma, quindi in particolare del patrimonio un petri, della questione dell'universalità del papato e della sua attuazione a livello anche territoriale. Dico solo alcuni esempi, sono il contributo di Andrea Verardi che a partire dal Liber Pontificalis racconta le elezioni del Vescovo di Roma oppure quello di Enrico Veneziani che riprende e sviscera lo scisma innocenziano e infine invece per quanto riguarda proprio il patrimonio un petri sono due interessanti contributi, uno di Alberto Spataro sulla gestione, nel governo del patrimonium e di Erich Müller sui banchieri attivi presso la curia romana. E infine il terzo aspetto del volume, il terzo gruppo di contributi si occupa invece degli strumenti impiegati per l'attualizzazione di questo primato. Infatti cardine del volume è la dialettica fra la norma e la prassi di fatto. Se quindi la prima parte vuole mostrare come fosse presente una teorizzazione del primato Petrino che fece da base allo sviluppo dell'autocoscienza ecclesiale e soprattutto all'autocoscienza di Pietro, del vicario di Pietro, quello che nel corso del volume si evince è l'utilizzo sempre più consapevole di determinati strumenti proprio formati e impiegati per poter mettere in atto effettivamente questo primato nella dialettica dell'interazione fra il centro e le chiese locali. In questo modo ovvero il contributo del volume vuole essere diciamo triplice quindi da un lato lo studio della norma in secondo luogo lo studio degli strumenti in terzo luogo l'interazione fra il centro e le periferie della cristianità come sottolineato dalla storiografia europea degli ultimi decenni. Questo come sguardo sintetico sul volume. Beh è una sintesi molto succinta devo dire perché il tema è enorme si parte proprio da Gregorio VII e dal suo lavoro che è un primo a parlare di universalità Sì, il tema dell'universalità infatti noi abbiamo scelto questa proposizione del Dictatus Pape perché con Gregorio VII sebbene la storiografia più di recente abbia come ridimensionato in un certo senso il ruolo di Gregorio VII nel contesto della cosiddetta lotta per le investiture rimane imprescindibile il livello di chiarezza nella formulazione teorica che il papato raggiunse con la sua persona e la sua personalità non dobbiamo poi dimenticare che Gregorio VII è un papa di cui possediamo il registro e quindi possiamo chiaramente studiarlo in maniera estremamente più approfondita rispetto a molti dei papi i suoi contemporanei pertanto questa proposizione che è contenuta nel Dictatus Pape questo documento appunto inserito nel registro e che storicamente a livello manualistico viene identificato come l'inizio poi dello scontro con l'imperatore con Enrico IV abbiamo scelto come momento di sintesi di partenza per poi verificare come sia quale fosse la base di tale espressione la base intendo anche la base ecclesiologica teorica e moltissime ricerche recenti hanno dimostrato come Gregorio VII in realtà fosse preceduto a livello ecclesiologico da moltissimi altri fondamentali pontifici meno noti al grande pubblico per moltissimi motivi per esempio Leone IX in un volume recentissimo sempre uscito per Ordines è stato trattato molto approfonditamente proprio anche negli aspetti dell'ecclesiologia che in certi casi anticipano quanto poi Gregorio VII porterà all'apice della sua espressione quindi da un lato chiaramente il volume anche si concentra nei secoli anche immediatamente precedenti successivi al pontificato di Gregorio VII il Gregorio VII si trova anche in copertina per come omaggio anche alla frase scelta del diktatus ma il tema fondamentale non è assolutamente la sua figura quanto piuttosto appunto lo sviluppo di questa concezione del papato nelle nuove ricerche perché questo ci tengo anche a sottolinearlo è un aspetto del volume a me anche molto caro siamo tutti più o meno giovani studiose e studiosi e pertanto sono presentate delle ricerche nuove che si confrontano con le acquisizioni tradizionali e meno tradizionali della storiografia non solo italiana ma inglese tedesca francese insomma con la storiografia europea questo ciascuno secondo i suoi ambiti più precisi di ricerca penso per esempio al contributo di Eric Müller sui sui banchieri presso la Curia Romana è un tema già in parte studiato da Marco Venditelli ma Eric Müller attraverso lo studio di alcuni nuovi documenti e di alcuni protocolli riesce a identificare alcuni alcuni nuovi sviluppi delle di queste personalità presso la Curia Romana oppure alle ricerche di Caterina Ciccopiedi sui sul ruolo dei vescovi nell'Italia centro-settentrionale Caterina Ciccopiedi prende ad esempio tre diocesi e ovvero Torino, Milano e Genova e sviluppa e cerca di dimostrare lo sviluppo che il ruolo dell'istituzione episcopale ha avuto proprio nei secoli centrali del Medioevo l'undicesimo e nel dodicesimo secolo appoggiandosi sicuramente anche a sue ricerche precedenti ha scritto un volume molto bello sul ruolo dei vescovi nell'Italia centro-settentrionale e mostrandone come il ruolo del vescovo fosse fondamentale nello sviluppo appunto di questo nello sviluppo e soprattutto nell'attuazione della centralità del papato mi coglie leggermente impreparato non del tutto perché alcune cose le ho studiate ma non chiaramente ai livelli ai quali siete arrivati voi e mi interessava capire anche perché il tema dell'universalità del papato che poi è parte del titolo ecco universale cosa cosa intendiamo per universale sì allora questa è una domanda molto interessante perché l'istituzione del papato inizia a concepirsi dentro la sua universalità proprio con lo sviluppo dell'autocoscienza con lo sviluppo dell'autocoscienza tetrina e lo sviluppo sempre più chiaro di un papato centralistico organizzato anche in senso gerarchico che si sviluppa a partire dal dall'inizio della lotta per l'investitura ovvero con quella che nella storiografia tedesca è definita la papsgeschichtliche vende questo momento di svolta nella storia del papato è una formulazione di Rudolf Schiffer e che si può identificare nell'undicesimo secolo allora questo è il momento in cui il papato inizia a concepirsi come universale cosa intendiamo con questa formulazione intendiamo principalmente il fatto che il papato passa da essere una una chiesa a carattere più episcopale quindi più collegiale a una struttura invece più gerarchica più organizzata quindi questo come istituzione diciamo come cambia l'autocoscienza interna ma questo ha uno sviluppo molto chiaro nella relazione questo era infatti il terzo aspetto del volume che ho sottolineato in precedenza nell'interazione con le chiese locali ovvero se si definisce universale vuol dire che può avere effettivamente prerogative di governo anche con tutte le chiese locali e nella dialettica con nella dialettica nel dialogo nell'interazione nell'incontro scontro con ciascuna di queste entità e realtà per esempio e quindi per questo aspetto proprio per mettere in dialogo il centro con le cosiddette periferie dove le periferie sono semplicemente le chiese locali spesso il papato rimarca sottolinea il suo ruolo di di capo di una chiesa che è universale cambia proprio lo sguardo della chiesa questo avviene attraverso moltissime e diverse novità per esempio penso all'internazionalizzazione del collegio dei cardinali dove non sono più solo chierici romani ma iniziano ad arrivare anche da fuori Roma oppure dallo uno strumento finora poco preso in considerazione che è quello della cappella papale di cui mi sono occupata io nel corso della tesi di dottorato di prossima pubblicazione che mette in risalto come dei chierici solitamente attivi nei capitoli cattedrali delle diverse diocesi della cristianità poi fossero anche legati alla puria romana attraverso la concessione attraverso l'ordinazione suddiaconale il suddiaconato è un ordine minore ora praticamente non più nemmeno conferito e questo suddiaconato faceva sì il conferimento dell'ordine suddiaconato faceva sì che questi chierici poi potessero ricevere i gradi di ordinazione successivi solo dal solo dal pontefice o da una persona da lui incaricata e quindi nella loro doppia natura di chierici locali ma lo si stempo con il loro legame con la sede apostolica mostrano bene come questa universalità non sia solo teorica e non sia solo una questione di governo universale quanto sia più prettamente pratica anche proprio nel nel modo di interazione trovi la sua attuazione pratica nelle personalità attive presso la curia romana ma contemporaneamente anche attive presso le chiese locali nei capitoli cattedrali infine l'universalità è evidente in alcuni testi sviluppati e che infatti sono oggetto della prima parte concepiti sviluppati e sono oggetto della prima parte del volume sia si tratta di un tratto dei pontefici sottolineato nelle compilazioni dei canoni del XII e XII secolo canoni utili utili identificare utili per lo studio delle elezioni dei papi come ha fatto Sabrina Blanc oppure proprio il tema più prettamente specifico dell'universalità trova due grandissime formulazioni una nell'istoria apostolica di Aratore studiata da Marco Cristini e in secondo luogo anche dai poeti di età carolingia e si tratta del saggio qui presentato da Marco Sirtoli quindi nell'ottavo secolo è molto interessante il ruolo degli intellettuali ai quali è necessario studiare la curia e il papato senza prescindere dallo sguardo di queste personalità e di questi grandi intellettuali del tempo che comunque ciascuno nel suo tempo quindi anche secondo la sensibilità le urgenze le cogenze a lui contemporane sviluppavano comunque delle sviluppavano delle idee che poi venivano riutilizzate anche a livello appunto ecclesiologico dalla cura e dal papato stesso ma noi possiamo parlare di di papato come di uno stato extraterritoriale ma qualcosa di unico no perché praticamente non esistono altri almeno c'è l'impero che cerca di essere extraterritoriale è l'unico che si può per il resto poi la storia ci insegna che quasi tutti i paesi vanno verso gli stati nazionali no ma questo ha a che fare con questa la question dell'universalità ha a che fare con la natura intrinseca di quello che il papato dice di essere e questo anche da storici non si può dimenticare non ha niente a che fare con la fede che ciascuno può avere o non avere si tratta semplicemente di quello che il papato afferma di sé quello che la chiesa cattolica romana afferma di sé di essere la continuazione di fatto della presenza di Cristo e che questo può avere a che fare con tutti gli uomini di tutto il mondo per cui al di là di come veramente questo non ha niente a che fare con la nostra ricezione da storici ma con la concezione e in l'Europa medievale era un'Europa prettamente cristiana nella sua stragrande maggioranza fino a Lutero era cristiana e cattolica eccola non si può scindere anche nel nel tentativo di identificare questo questo suo essere extraterritoriale non si può assolutamente scindere con la concezione che la chiesa ha di sé che è all'origine comunque anche al di là di errori valutazioni perché noi studiamo la chiesa come un'istituzione quindi come dice il più grande storico del papato che è Agostino Paravecini Bagliani una volta in un dialogo ci disse noi eravamo molti giovanissimi dottorandi ci disse comunque se il regno se la monarchia di Francia avesse resistito tutti gli anni che ha resistito il papato avrei studiato quello cioè noi guardiamo il papato da un punto di vista istituzionale anche con i riti gli aspetti le liturgie la simbologia proprio nell'ultimo periodo nelle ultime settimane dopo la morte di Benedetto XVI quante volte abbiamo potuto fare riferimento ai riti e come tutto il mondo è stato attento ai riti o pensiamo al conclave come tutto il mondo segue i conclavi i riti del conclave per l'elezione del nuovo pontefice c'è un aspetto estremamente affascinante da storici e da uomini che usano la ragione proprio nell'aspetto di quello che è il papato come istituzione ma questo non si può scindere questo da quello che è all'origine della concezione del papato ha di sé che è questa dimensione universale della fede non si tratta di entrare nel merito del giudizio cioè non si tratta di entrare nel merito e di dire se è vero non è vero questo non è importante è importante per noi sapere che anche nella teorizzazione dell'universalità l'universalità veniva teorizzata quindi dobbiamo cercare di capire come cosa c'è all'origine di questa teorizzazione e perché viene fatta anche secondo quali impulsi appunto lei l'ha detto molto bene c'è l'impero dall'altra parte che sta infatti i poteri universali sono sempre due sono il papato e l'impero e non a caso entrano costantemente in conflitto fra di loro proprio per perché il tema è chi governa il mondo e questo adesso nel volume appare in maniera non particolarmente sviluppata ma ci sono moltissimi studi che invece sono proprio sul ruolo dell'impero e poi anche sul dialogo fra il papato e l'impero chi riceve il potere da chi basta pensare alla teoria delle due spade o del sole della luna per cui il tema dell'universale di chi regge il mondo ma questo anche pensando allo sviluppo delle scuole nel medioevo era un tema estremamente presente che noi forse in un certo senso chiaramente da uomini moderni abbiamo dimenticato perché viviamo in entità molto più ristrette però il papato non ha perso se ci pensiamo bene appunto questa pretesa universalistica e questa dimensione universale il papa tuttora manda nunzi manda legati manda delegati non ha cambiato nomina i vescovi il papa viene ancora eletto dai cardinali certo sono cambiate delle norme ma tuttora non ha perso questa dimensione universale beh io direi che bisogna andarlo a comprare questo libro perché se uno vuole capire fra l'altro non è neanche costosissimo quindi io ricordo è anche disponibile in ebook ecco quindi su amazon penso che trovate l'ebook ma anche sul sito della casa editrice vita e pensiero quindi io ricordo il titolo è l'universalità del papato medievale secoli sesto tredicesimo nuove prospettive di ricerca a cura di Sabrina Blanc e Caterina Cappuccio che abbiamo avuto nostra graditissima ospite appena pubblicato da vita e pensiero che io consiglio a tutti di acquistare grazie Caterina grazie mille grazie a lei a tutti voi continuate a seguirci sul nostro sito italiamedievale punto org dove troverete tutte le nostre video e presentazioni arrivederci alla prossima video arrivederci a poi che troverete il tuo bel pizzo che in tua amorosa verrà si sciolse il tuo padre verrà con il suo a poi che troverete